Il piatto tipico del Piemonte è la bagna cauda, un piatto tipicamente invernale, ma il piemontese vero la mangia sempre. Nelle altre regioni nel biberon si mette il latte per i bambini, mentre in Piemonte le mamme mettono la bagna cauda. Ovviamente ha delle contraddigazioni, è piena zeppa d'aglio, quindi la si deve mangiare in copia, almeno si puzza entrambi. Ha anche dei vantaggi, però. Avete mai sentito che Dracula sia passato da Torino per succhiare il sangue ai torinesi? No, neanche nelle altre città piemontesi, perché diventerebbe cinere all'istante in quanto allergico all'aglio. Infatti l'unico che lo sconfisse fu Van Helsing, che in realtà si chiamava Vanni Balengo ed era piemontese della Val di Susa, un mangiatore incallito di bagna cauda, che con un'alitata l'ha ridotto in cenere all'istante. Questa tipica salsa piemontese è di un liquido denso. La ricetta contiene acciughe, olio d'oliva, burro, latte e tantissimo aglio. La si gusta con verdure crude o cotte, ma i veri piemontesi ne fanno uso con tutto. Nelle città del Piemonte la potete trovare negli uffici nelle macchinette automatiche che oltre ad erogare caffè e cioccolata calda erogano pure la bagna cauda, da gustare nel classico bicchierino di plastica. D'estate le gelaterie esibiscono il gelato al gusto di bagna cauda, il famoso cono alla bagna cauda, ma anche nelle scatoline. I bar, il classico ghiacciolo alla bagna cauda. Una volta, quando non c'erano i termosifoni, ma solo stufe a legna, facevano scaldare la bagna cauda avanzata e la mettevano nella bull della bagna cauda, un recipiente di gomma o metallo che si infilava sotto le coperte per scaldare il letto e così dormire con i piedi caldi durante le gelide notti invernali ai piedi della mole. Il giorno dopo la riscaldavano per mangiarla a colazione con il tipico gusto in più di cagliata rilasciato dai piedi sudati. Negli ospedali agli ammalati fanno due flebo, due flebo contemporaneamente. In un braccio la flebo della bagna cauda e nell'altro la flebo del barbera, perché la bagna cauda chiama il barbera, sono i Romeo e Giulietta della cucina piemontese. Il vero piemontese non esce mai di casa senza il classico termos della bagna cauda. Così anche fuori casa ogni tanto si fa una ciucciata della sua salsa preferita. Un sorso come fosse una bevanda energetica, dove viene data pure nelle palestre dai personal trainer e sui campi di calcio dagli allenatori e preparatori atletici. Perché la Juve vince tanti scudetti? Perché la Juve vince tanti scudetti? Perché da anni danno ai giocatori la bagna cauda. Prima la prendevano quelli del toro, infatti nacque il grande Torino e la leggenda Granata. Poi i dirigenti bianconeri girarono le balle e cominciarono a distribuire bagna cauda a tutti i giocatori e così è nata la grande Juve degli otto scudetti consecutivi. Cristiano Ronaldo, nonostante abbia già 55 o 56 anni, è ancora così forte perché al posto del Gatorade beve la bagna cauda. E mangia la bagna cauda. Già nel Real Madrid ne faceva uso. Se la faceva spedire direttamente da Torino apposta, ma poi disse, ma perché devo mangiare la bagna cauda riscaldata? Così ha deciso di andare alla Juve per mangiarla appena fatta giustamente. Mica per i 30 milioni. E quando trova un difensore arcinio tipo Curibali del Napoli, usa la sua arma segreta, l'alitata alla CR7 e fa gol. Quindi bambini, se volete diventare forti come CR7, mangiate tanta ma tanta ma tanta bagna cauda e il difensore avversario si arrenderà.